Buonasera a tutti e ben ritornati a Tu per Tu con il programma di Il programma che ogni sera porta a casa vostra un esperto, un professionista per parlare di quello che succede che proprio ha un legame stretto con la nostra vita quotidiana, vita che può essere la vita privata, la vita lavorativa e le varie vicende che insomma ci troviamo ad affrontare giorno per giorno. Torna nei nostri studi naturalmente per parlare di lavoro e di intorni la nostra Elena Maga, grazie Elena di essere con noi. Buonasera a tutti. Fanno parlare i nostri telespettatori per quello che si vede, si legge ogni giorno sul giornale e noi siamo qui anche per chiarire dei dubbi e per capire un po' anche come lavorate giustamente per il pubblico. E allora voglio parlare subito di un tema caldo che è quello del reddito di cittadinanza perché proprio in questi giorni ci sono stati vari scandali legati al fatto che ci sono stati parecchi miliardi distribuiti e pare ingiustamente, parecchie persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza indebitamente e quindi è giusto capire come mai questo succede. Allora subito vi voglio dire una cosa, non è la CISL, non è neanche un altro sindacato, nessuno dei sindacati che offre anche il servizio di caffè patronato è responsabile di questo perché i controlli non stanno in capo a voi. Come funziona? Sicuramente il problema del reddito di cittadinanza si è posto fin dall'inizio quando si è trattato di presentare le domande. Nel momento in cui le persone autocertificano determinati stati o comunque cercano di fare dichiarazioni non conformi può succedere che percepiscano dei redditi indebitamente. Per quello che ci riguarda noi siamo stati sempre molto severi nella richiesta delle documentazioni originali o comunque di copie conformi alle originali e comunque di documentazioni che comprovassero le dichiarazioni delle persone. Quindi non abbiamo mai accettato per così dire la parola della persona o l'autodichiarazione della persona ma abbiamo sempre preteso di vedere. Anche perché come giustamente dicevi tu chi aiuta a stilare una domanda diventa in un certo senso corresponsabile anche se si tratta di dichiarazioni delle persone ma noi diventiamo in un certo senso corresponsabili se avvaliamo situazioni che non siano regolari. Quindi era nostra cura essere molto severi tant'è che a diverse persone abbiamo detto che non ne avevano diritto e che noi non avremmo presentato la domanda in nome per conto loro. Certo quindi non è un proviamoci e vediamo come va ma è un se ci sono i requisiti bene se no la domanda manco te la presento come giustamente dovrebbe accadere. Quindi siamo sicuri che quantomeno qui abbiamo la CISL però siamo sicuri che quantomeno da parte della CISL di Pavia a Lodi c'è stato un controllo. Adesso non è che possiamo garantire che l'errore umano però sicuramente che il lavoro è stato svolto in maniera in cui l'autocertificazione va bene sì però andiamo un po' più a fondo. Certo no no assolutamente noi ripeto abbiamo detto chiaramente a diversi soggetti che non avevano i requisiti sufficienti anche perché i requisiti erano molto chiari. C'era tutta una serie un combinato disposto rispetto a un ise personale e familiare eventuali proprietà possesso di macchine. Cioè c'erano una serie di requisiti che dovevano tutti essere esibiti e certificati in mancanza di queste cose noi oppure se riscontravamo all'interno delle dichiarazioni che ci venivano fatte dei requisiti non conformi si diceva che non era il soggetto che poteva avere requisiti e la persona veniva mandata via insomma gli veniva detto che non poteva farlo. Facciamo un passo successivo andiamo proprio alla domanda no? Quando la domanda è stata fatta è stata accolta perché poi non è che uno per forza si rivolge a un CAF no? Può trovare anche qualcuno compiacente che lo aiuta o farselo anche in maniera autonoma no? Quindi viene presentata la domanda viene accolta a quel punto in capo a chi è il controllo di questi benedetti redditi di cittadinanza? Beh prioritariamente in capo all'IMS e poi però ci possono essere anche controlli di altro tipo la finanza piuttosto che altre forze dell'ordine a cui magari pervengono segnalazioni e che vanno a fondo e che quindi vanno a scavare la situazione o della singola persona o anche come sembra che stia accadendo in questi giorni di uffici che si spacciano per CAF perché non posso dire che lo siano se non lavorano in maniera seria e che aiutano in un certo senso i soggetti che impropriamente vogliono percepire il reddito a procacciarselo ovviamente fino a quando non avviene il controllo. Quello che mi preme dire è che il reddito di cittadinanza in sé è un sostegno alle persone che in questo periodo di pandemia è stato fondamentale perché ci sono state famiglie che sono sprofondate nella povertà e che senza il reddito di cittadinanza non avrebbero potuto nemmeno procurarsi il cibo per i figli o per la famiglia intera. Detto questo io distinguerei tra veri poveri e falsi poveri. Allora per i veri poveri è dovuto un reddito che faccia riacquisire una dignità alle persone e possa dare loro il minimo di sostentamento. I falsi poveri vanno perseguiti con molta severità. Sulla stessa linea è il ministro Orlando, quindi voglio dire siamo in buona compagnia del ministro, la linea è quella e dice appunto anche oggi è ribadito il fatto che il reddito di cittadinanza è uno strumento importantissimo per combattere la povertà. La povertà purtroppo c'è, purtroppo esiste, ci sono molti poveri nel nostro paese e quindi non è sicuramente nei piani, nei progetti l'eliminazione del reddito di cittadinanza. E' necessario, dice lui sicuramente, avere degli strumenti di controllo, avere delle cose più efficaci per prevenire questi problemi. Perché poi in realtà se queste cose sono state scoperte è evidentemente i controlli ci sono stati, ma ci sono stati forse un po' troppo tardi. Che cosa ne pensi? Sicuramente diciamo che noi abbiamo un problema di lentezza dei controlli, che è un dato di fatto, ma non succede solamente per il reddito di cittadinanza. Anche l'Agenzia delle Entrate, per esempio, opera controlli con anni di distanza rispetto al fatto che viene contestato. Questo tra l'altro mette anche molto in difficoltà, perché nel momento in cui si contesta dopo anni è anche faticoso. Per il cittadino anche onesto, ma che magari in buona fede ha commesso un errore nella dichiarazione, andare a risalire a fatti di 4 anni fa o di 5 anni fa. Quindi c'è un problema proprio di sincronizzazione maggiore della richiesta e del controllo. Anche perché la cosa vera è che sono stati erogati milioni di euro in maniera impropria. E io dubito fortemente che lo Stato possa rientrare di questi milioni di euro. Eh sì, vai a beccare adesso. No, ma soprattutto anche una volta beccati, se sono persone, per esempio, che hanno redditi in nero, o redditi, come è successo di recente, anche malavitosi, come si fa a dare cosa gli si prende, cosa gli si sequestra. Certo. Quindi è evidente che sono soldi che sono finiti perduti. Se non addirittura all'estero abbiamo anche visto, di redditi che prendevano direttamente la strada di altri paesi. Non venivano neanche spesi in Italia, capisci? Nonostante ci sia un vincolo molto forte che andrebbero spesi nello stesso mese e per generi già individuati. Secondo me l'altra criticità però del reddito di cittadinanza è che non è stato accompagnato dalle politiche attive del lavoro. E quindi nel momento in cui io non accompagno politiche attive del lavoro serie, il reddito di cittadinanza diventa puro assistenzialismo. E anche questo è sbagliato. Ecco, voglio dire, no? Siccome poi i sindacati purtroppo o per fortuna hanno a che fare molto spesso con parecchie persone che perdono il lavoro, no? Non si poteva per esempio pensare a una bella collaborazione più forte con voi e cercare di riposizionare queste persone che fondamentalmente i veri poveri o i veri bisognosi magari voi li avete anche più sotto occhio, no? Ma ci sono, come abbiamo detto prima, ci sono due tipi di poveri e bisognosi. Ci sono i poveri che sono strutturalmente poveri e che sono persone ai margini, che sono anche difficilmente ricollocabili nel mondo del lavoro e ci sono invece quelli che diventano poveri a seguito dell'aver perso il lavoro. Quindi sicuramente questi che sono comunque ancora più vicini al mondo del lavoro e più spendibili andrebbero accompagnati. E qui direi che il progetto Goal che ha in mente il governo finalmente e l'investimento sugli uffici del lavoro potrebbe aiutare grandemente perché finora non è stato un lavoro efficace quello che è stato svolto, è inutile nasconderlo. Bisogna che ci si faccia carico dei soggetti, naturalmente quelli più vicini al lavoro, al mondo del lavoro vanno solo riqualificati con corsi anche brevi. Quelli più lontani dal mondo del lavoro che hanno una preparazione lavorativa obsoleta vanno invece formati in maniera molto più seria e poi invece c'è tutta quella fascia delle persone ai margini della società che difficilissimamente possono essere recuperati al lavoro ma che devono essere seguiti dai servizi sociali. Certo, brava, è giusto perché bisogna fare anche dei distinguo sulle persone. Magari gente che lavora non sa manco che cosa sia, quindi è molto difficile che se tu vai a dare a queste persone addirittura una forma così di denaro, di sostentamento, questi di colpo riscoprano. Soprattutto c'è un problema di collocazione di queste persone ai margini perché al di là di tutto è difficile che le aziende le assumano. Il vero nodo è che la persona più vicina al lavoro o comunque più avvicinabile al lavoro viene assunta dalle aziende. Noi abbiamo adesso un grosso problema di mismatching nel senso che noi abbiamo le aziende che cercano i lavoratori e non trovano i lavoratori. Però è chiaro che un'azienda difficilmente assumerà con gioia persone che non hanno mai lavorato e che sono ai margini della società. Allora, un nostro telespettatore, in realtà più di uno, ci chiede l'affermazione fatta di CAF con i venti che hanno inoltrato centinaia di domande provenienti dalla banda di Rumeni. È una bufala? Poi vorrei una conferma, una smentita sui casi di connivenza fra CAF e banda di Rumeni che percepivano il reddito di cittadinanza. Il CAF non era il nostro. Non sono in grado di confermare o di negare. Io posso dire che noi non siamo, non l'abbiamo mai fatto, ma a prescindere da bande di rumeni, albanesi, italiani. Noi abbiamo sempre cercato di essere molto scrupolosi perché riteniamo che il rispetto del denaro pubblico sia dovuto soprattutto da noi che dobbiamo rappresentare i lavoratori onesti e che quindi non ci andiamo a sporcare le mani con queste cose. Poi purtroppo l'Italia non è un paese di santi e lo si vede in ogni occasione. Anche quando ci sono misure socialmente utili vengono poi deturpate e sporcate da persone poco oneste. Certo, certo. È questo veramente un po' il male di questo paese che è fatta la legge e ha trovato l'inganno. Niente di più veramente giusto, centrato per un certo tipo di comportamento, di un certo tipo di italiano. È così purtroppo. È una cosa che ci... è un po' una piaga che ci portiamo. È un limite culturale. Secondo me è un limite culturale. Non riusciamo a percepire la cosa pubblica come valore e bene di tutti. Quando matureremo come popolazione forse questo verrà meno. Bene. E allora, io sul reddito di cittadinanza veramente ringrazio Elena di averci fatto questo chiarimento, però la pianterai qui anche perché sinceramente la soluzione non possiamo averla noi. E chi doveva fare i controlli si spera che insomma sia attivi e li faccia e si spera che subito producano degli strumenti più forti di controllo. Ecco, questo è un po' voglio dire, ma è solo un commento. In un mondo ormai completamente digitalizzato, dove veramente le informazioni sono tutte qui, è possibile trovare una maniera più semplice che dica sì o no senza dover produrre 2000 autocertificazioni? Insomma, se è tutto registrato, tutto è qui. Ma esistono anche normative da anni in cui si dice per esempio che le amministrazioni statali si devono parlare e il cittadino non deve produrre niente ma tra amministrazioni dovrebbero parlarsi. Il problema è poi attuarle. Noi non dovremmo nemmeno alcune cose certificarle o autocertificarle, perché basterebbe che all'ufficio dove ci rivolgiamo, se dentro il consesso statale, fosse dato e avesse voglia di interfacciarsi con l'altro ufficio, magari di fianco e verificare quello che noi diciamo. Purtroppo questo fa parte, secondo me, di quell'ampio spazio di miglioramento sulla burocrazia e sull'amministrazione che dobbiamo percorrere. Ok, allora cambiamo argomento e andiamo per un attimo al Green Pass, perché ci sono un po' di domande sulla terza dose, sulla validità del Green Pass, eccetera. È notizia di questi giorni ed è una conferma che ci chiede il nostro telespettatore, perché siamo verso l'obbligatorietà della terza dose per chi lavora negli ospedali, nel settore della sanità. Succederà la stessa cosa per il settore della scuola e dintorni? Io me lo auguro. Io ho già prenotato la mia terza dose, quindi sono assolutamente una convinta fautrice. Non entro nemmeno nella sterile polemica che anche chi è vaccinato può contagiarsi, perché lo sappiamo tutti. Detto tutto ciò, mi sembra che la politica di rigore che ha fatto l'Italia fino ad oggi abbia pagato, perché a fronte dei nostri 10.000 contagi di ieri abbiamo la Germania che ne aveva più di 50.000 e che l'Austria, per citarne altri, la Francia è in difficoltà e stanno tutti pensando di attuare iniziative e misure pari alle nostre. Quindi evidentemente per una volta possiamo dire che siamo stati i migliori. Per una volta, infatti chi criticava il modus operandi dell'Italia, gli italiani e sessi, questo faceva un po' dispiacere, la sfiducia in un modello che era un unicum, però che qualcuno doveva iniziare. Ecco, io capivo più magari chi diceva, ho paura, motivi diversi da, chissà come mai solo l'Italia, chissà cosa c'è dietro. No, pensiamo che magari per una volta possiamo averla vista lunga. Io credo che di fronte ad una pandemia che da due anni in fondo sta straziando non solo l'Italia, ma l'intero mondo, bisogna essere malati di sano realismo e dire se in questo momento la misura migliore per contenere i contagi e per evitare i morti è il vaccino, si faccia il vaccino. Cioè non riesco francamente a condividere, anche perché siamo tutti, cioè i più adulti sono della generazione che hanno fatto tutti i vaccini senza batter ciglio. Da bambini ci facevano i vaccini, nessuno di noi batteva ciglio, nessuno faceva storie, nessuno di noi si è mai posto veramente il problema di cosa ci fosse dentro francamente. Prendiamo medicinali di tutti i tipi, c'è gente che si intossica con cose assurde per tenersi in linea o per tenersi tonici e poi se devono farsi un vaccino non se lo fanno. Certo, allora, polemica, fatto di ieri sera, 19 persone tutte vaccinate a cena, oggi 19 persone contano tampone positivo, voglio vedere l'ansa, non mi bastano, perché poi c'è sempre il mio amico, mio cugino, eccetera. Non mi sembra uno scandalo, anche perché se c'è una persona, per esempio, non vaccinata che veicola il contagio, a me importa una cosa diversa. Essere positivi al tampone non vuol dire finire né in terapia intensiva, né in rianimazione, né morire. Quindi essere positivi al tampone è una cosa, avere le file di morti è un'altra cosa. Quindi io credo che valga la pena mettersi almeno nella situazione di rischiare sicuramente di essere contagiati, al di là del fatto che il 70% delle persone presenti negli ospedali adesso e positive non sono vaccinate per la cronaca. Quindi, voglio dire, sono dati, la matematica non è un'opinione. Dopodiché preferisco al limite rischiare una positività, ma rischiarla a casa mia e magari non stando malissimo, che invece avere la certezza di una positività magari ricoverata in terapia intensiva. Anche perché non ha mai detto nessuno che da vaccinati non si possa prendere il covid, nessuno ha mai fatto quello. Io non mi ricordo che nessun medico... No, ma non è sostenibile, però è una cosa e prenderlo, essere positivi e magari senza neanche febbre o senza neanche sintomi trascendentali. E un'altra cosa è quella che succedeva l'anno scorso, quando il vaccino non c'era, che la gente aveva delle febbre altissime e finiva in ospedale. Cioè, credo... anche perché per il momento va detto che la cura non c'è. Cioè, è inutile che ci giriamo intorno. Sono tutte cure tampone che vengono fatte. Quindi, in forma più lieve si prende, più si hanno speranza di portarla fuori. Cioè, ci sono persone che hanno purtroppo non solo perso la vita, ma hanno ancora adesso esiti dopo la malattia molto, molto importanti. Quindi non è da sottovalutare questa cosa. Certo. Allora, un'ultima domanda. Poi andiamo in pubblicità. È vero, ci chiede Valentina, che si va verso una sforbiciata ai nostri Green Pass, che adesso valgono un anno, c'è una proposta per farli valere solo 8-9 mesi? Ma allora, di proposte ce ne sono in giro tante. C'è stato un documento di alcune regioni che chiedevano un inasprimento della situazione. Per il momento il governo sembra che sia intenzionato, fermo restando il numero di contagi sotto controllo, a non operare drastici cambiamenti. Però, francamente, se passiamo alla terza dose, vedremo. Adesso io inviterei le persone a cominciare a valutare l'opportunità di vaccinarsi con la terza dose, che sembra la cosa più urgente e più importante. Poi, che duri 8 mesi, che duri 9 mesi o che duri un anno, francamente mi sembra un problema minore rispetto, per esempio, a non chiudere di nuovo il paese, a non avere ancora tutte quelle limitazioni che abbiamo vissuto e soprattutto, io lo dico, a non chiudere le attività. Perché se dovessimo chiudere le attività adesso saremmo veramente, ma veramente nei guai. Va bene, pubblicità per noi e torniamo in studio con la nostra Elena Maga. Eccoci qua, torniamo in diretta, lo facciamo con Elena Maga, che è il segretario provinciale della CISL di Pavia e Lodi. Stavamo parlando di Green Pass e stavamo parlando dell'importanza di continuare sulla linea che il governo ci ha tracciato, continuare per proteggerci e mantenere bassi questi numeri che purtroppo invece nel resto d'Europa. Tu hai parlato di Inghilterra, hai parlato di altri paesi a noi molto molto vicino, pensiamo ad altri paesi che invece sono già K.O., tipo la Romania, tipo altri paesi dove le percentuali di vaccini sono bassissime e addirittura già sono al collasso a livello di posti letto, eccetera. Quindi sicuramente rimane una manovra che tiene alta la sicurezza del gregge, chiamiamola così. Come dicevi tu, è importante perché poi la nostra libertà, la nostra vita, il poter andare in giro, fare e disfare, però come ricordavi tu, anche a livello lavorativo, economico, ecco, poi vengono altri problemi, no? I problemi di cui parlavamo, che uno non ha neanche più i soldi per mangiare, eccetera. Sarebbe importante non fermare un'altra volta il Natale, non fermare un'altra volta determinati settori che sono stati molto molto provati. Assolutamente, noi dovessimo di nuovo chiudere alcuni settori come la ristorazione, per esempio, non si risolleverebbe più il settore. Siamo già in fortissima crisi, tant'è che le ultime misure di novembre hanno in qualche modo cercato di raccogliere il grido di aiuto di settori veramente pesantemente in crisi, l'artigianato, il tessile, l'abbigliamento, ma anche, per esempio, cito le mense aziendali. I lavoratori delle mense aziendali sono rimasti in ginocchio, prima per la chiusura delle aziende e poi per lo smart working, perché ovviamente nel momento in cui un'azienda colloca la maggior parte del personale in smart working, la mense aziendale non funziona. Certo, pensiamo a... Quindi noi abbiamo interi settori che non hanno lavorato e che non stanno riprendendo a lavorare. Pensiamo anche a tutti i mesi che hanno fatto a casa i bambini dal nido in su, che usufruiscono giornalmente della mensa, se andiamo a moltiplicare per il numero di pasti delle mense, ecco che le mense a quel punto non servivano più. E invece adesso, per fortuna, anche la scuola sta continuando in presenza. Insomma, è una lotta continua per il bene comune della collettività, no? Così deve essere. Come dicevi tu prima Elena, la cosa comune di tutti, no? Bisogna... La salute pubblica anche, cioè noi dobbiamo puntare a salvaguardare la nostra salute personale salvaguardando anche quella pubblica. Quindi nel momento in cui io compio degli atti che possono essere, magari secondo me, giusti, ma che poi si rivelano dannosi, se non letali, per la salute pubblica, io sto commettendo un errore. Sto facendo un atto di egoismo, anche perché, diciamoci pure la verità, che in Italia il numero delle vaccinazioni è elevatissimo, per fortuna, e allora mi sembra anche corretto rispettare tutti quelli che si sono vaccinati e che si sono sacrificati anche per gli altri, che si permettono il lusso di andare in piazza a manifestare, magari infettandosi, come si è visto recentemente nelle manifestazioni, dove ci sono stati poi dei picchi notevoli di contagi nelle località che hanno ospitato queste manifestazioni. Ecco, ma anche banalmente, quanto è bello andare in giro adesso per strada senza la mascherina, no? Cioè, pensiamoci dopo, quando ce la dobbiamo rimettere, com'è fastidioso. Cioè, già il chiuso la dobbiamo tenere, ovviamente. Però almeno all'aperto riusciamo a guardarci in faccia, a vedere anche un sorriso. Ma anche abbiamo ripristinato anche moltissime attività. Non so, pensiamo ai nostri ragazzi che non potevano fare sport, che non potevano allenarsi, che non potevano uscire di casa, adolescenti che hanno patito veramente la solitudine o che si sono alienati davanti ai media o davanti al computer, anche con rischi, tra l'altro, di incontri neanche tanto positivi. Quindi pensiamo alle generazioni future e alle generazioni presenti e pensiamo anche, per esempio, agli anziani che sono particolarmente fragili. Pensiamo alla gente che ci cura, perché poi noi ci permettiamo il lusso di infettarci e di infettare, ma poi abbiamo tutto il comparto sanità che da due anni, come dire, non si dà pace, sono sempre sotto pressione e sempre in prima linea. Quindi dobbiamo essere veramente altruisti nei confronti degli altri. Allora, cambiamo ancora una volta argomento, lasciamo un attimo lì anche il Green Pass e andiamo ad un altro tema che è strettamente legato, perché fra le manovre che i nostri governi, che ci sono succeduti nel frattempo della pandemia, sono cambiati anche i governi, però le manovre le avevano lasciate, quelle più importanti per cercare di aiutare e attenuare i problemi derivanti dalla pandemia. Ecco che c'era il blocco dei licenziamenti. Come siamo messi? Perché è qualcosa che si è sbloccato, vero? Sì, diciamo che gradualmente da luglio qualche settore aveva cominciato già ad avere uno sblocco. Il 31 di ottobre era una data davvero temuta per molti settori, poi in realtà con la manovra di novembre e il decreto legge di novembre si sono prorogati di altre 13 settimane e di 9 settimane in altri settori le casse integrazioni, questo per dare polmone alle aziende, perché parliamoci chiaro, sono due anni che gli aiuti attraverso le casse integrazioni hanno consentito alle persone di avere un reddito e alle aziende di non chiudere i battenti, perché questa era la finalità. Devo dire che in provincia di Padia e anche in provincia di Lodi, perché di entrambe mi occupo, per fortuna non abbiamo ancora segni di vero e proprio tracollo, un po' perché c'è stato ancora quest'ulteriore polmone, un po' perché c'è questa ripresa delle attività delle aziende che ci fa ben sperare che almeno non ci sia una moria veramente pesante. Ci sono poi i settori che abbiamo citato, un po' il tessile, un po' l'abbigliamento, un po' il calzaturiero che qui è un po' in crisi, abbiamo poi l'artigianato che ovviamente sta un po' arrancando, però su questi settori in particolare si è prorogata la casse integrazione, speriamo in una ripresa graduale. C'è una grossa criticità sulle materie prime, purtroppo, perché anche i settori che adesso si stanno riprendendo hanno questa grossa problematica del riperimento delle materie prime e del rincaro molto molto pesante delle materie prime. Quindi in pratica per alcuni settori i licenziamenti si sono sbloccati, quindi per il datore di lavoro c'è la possibilità, perché in buona sostanza i licenziamenti erano congelati, però per esempio per i contratti, perché è una domanda che c'era arrivata, per i contratti a tempo determinato, però se arrivava la naturale scadenza si risolveva, non è che sarebbe stato troppo bello. Diciamo che si sono prorogati nel pieno della pandemia, sono stati prorogati di qualche mese anche quelli che venivano a naturale scadenza, però è chiaro che se un contratto è a termine ha una sua naturale scadenza. Quello che invece è interessante rispetto alla domanda che fai è constatare che a fronte di diverse centinaia di migliaia di posti di lavoro, di attivazioni lavorative nuove avvenute nel 2021 nei primi 7-8 mesi, l'80% sono a tempo determinato. Quindi c'è la ripresa, ma molto prudente, cioè i datori di lavoro assumono, ma assumono a tempo determinato, anche per tempi molto brevi. Quindi c'è una ripresa con i puntini di sospensione, perché non ci sono state stabilizzazioni, i tempi sono determinati anche molto brevi. L'unica nota positiva è che in mezzo a queste assunzioni ci sono state assunzioni anche di giovani, che era un po' che non succedeva, e poi hanno ripreso finalmente anche le assunzioni delle donne, perché io ricordo a tutti che nel 2020, con il lockdown duro, molte donne hanno rinunciato al proprio lavoro, perché non avevano modo di fare l'assistenza alla famiglia con tutti i servizi sociali chiusi. E quindi è stato un anno veramente pesante per l'occupazione femminile, perché molte donne hanno dato le dimissioni spontaneamente, perché dovevano gestire i problemi familiari. E per loro nessun sostegno, per queste povere donne che volontariamente si sono immolate? Allora, spesso si è arrivati a licenziamenti concordati in modo che non perdessero almeno la Naspi, perché chi si dimette spontaneamente non ha nemmeno diritto alla disoccupazione. In qualche caso si è riusciti con l'azienda a concordare il licenziamento in modo che l'azienda non avesse, ovviamente e giustamente non avesse problemi, ma la persona costretta purtroppo a casa senza reddito avesse almeno la Naspi. Si diciamo che magari si incontrano due esigenze, quella del datore di lavoro che diceva in questo momento magari una bocca in meno in azienda da sfamare, o un problema in meno, perché già di lavoro non ce n'è tanto. Se poi quel lavoratore in quel momento aveva l'esigenza di stare a casa, chissà come mai però mi chiedo io, Elena, chi si deve sacrificare su sempre le donne? Questo purtroppo fa parte della cultura di cui parlavamo prima, dipende anche molto dalla mansione della donna, ovviamente dipende molto da che tipo di lavoro svolge, dipende dal salario che percepisce per questo lavoro. Allora grazie, noi abbiamo sempre il salario più basso, quindi ovvio è una vittoria facile. Ma noi abbiamo un problema salariale... Io parlo a parità di mansione. Abbiamo un problema salariale complessivo direi, perché in Italia sicuramente c'è un problema salariale trasversale che è un problema aperto su cui dovremmo riflettere, perché al di là della battuta facile che gira in questo periodo, ma se devo lavorare per 700 euro, allora sto a casa e prendo reddito di cittadinanza. Battuta fino a un certo punto, tra l'altro, perché succede anche questo. Diciamo che però il problema salariale è pesante, soprattutto per fasce di lavoratori abbiamo salari veramente bassi, anche rispetto all'Europa, con un costo del lavoro per i datori del lavoro paradossalmente molto alto, quindi c'è da sistemare un po' di cose, un po' di regole. Quindi alzare gli stipendi e abbassare il costo del lavoro. Ecco, alzare gli stipendi e abbassare il costo del lavoro. Abbassare il costo del lavoro perché molte sono tasse e anche orpelli che vengono pagati e quindi gonfia tantissimo quello che è il costo azienda, come lo definiamo, però in tasca al lavoratore ci va molto di meno. Quindi secondo me, anche perché anche il discorso delle pensioni sui giovani, il giovane ha speranza di avere una sistemazione pensionistica dignitosa se ha una paga dignitosa mentre lavora. Ecco, cara Elena, visto che parlavi di battute facili, la battuta facile del datore di lavoro è ma io ti do, quando tu magari chiedi l'aumento, ma io ti do così ma mi costi il doppio. Allora è vero, non è... No, no, non è vero. Cioè non è una carta che si gioca. No, 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 il costo azienda è un costo pesante, questo è verissimo, però non può ricadere sul lavoratore ovviamente. E nemmeno sull'azienda bisogna trovare un altro modo per valutare il costo azienda in modo che il lavoratore percepisca invece una paga dignitosa e proporzionale all'impegno erogato, perché ci sono anche lavori davvero pesanti che prendono insomma lavoratore, tempo, fatica eccetera, che sono pagati proporzionalmente davvero poco. Senza contare che noi abbiamo un fenomeno di nero nel nostro paese che è ancora impressionante. Ecco, quello è direttamente... si va ad aggiungere al reddito di cittadinanza, no? Camminano purtroppo spesso a braccetto, perché mentre c'è la battuta facile, come dicevi tu, che a volte non è battuta del per 700 euro mi prendo il reddito di cittadinanza, c'è anche chi dice guarda, facciamo così, vengo, però me li dai in nero, perché così non perdo il reddito di cittadinanza. Quindi il guaio è ancora più atroce per chi invece lavora onestamente e si prende il suo misero salario e se ne sta pure in silenzio, perché deve ringraziare di prima. Ma voi sindacati state lavorando per noi? Certamente, anche perché il reddito di cittadinanza sono soldi pubblici, quindi non è che voglio dire qui... Io credo che gli italiani debbano convincersi che ogni misura di sostegno al reddito, ogni misura che va incontro a tutti, ed è giusto che ci sia, però ha un costo, non è che esiste un pozzo di San Patrizio da cui noi peschiamo, così è tutto o sulla fiscalità generale oppure sulla previdenza. Allora, però, ti interrompo, perché voglio sottolineare una cosa. Abbiamo parlato male del nostro paese questa sera. C'è un'altra cosa molto radicata e molto forte nel nostro paese di cui dobbiamo andare fieri, che è una storia sindacale molto forte. Qui abbiamo la CISP, tu lo sai, io voglio bene anche agli altri sindacati, perché se si difendono i diritti dei lavoratori, e sindacati seri, permettimi di dire, perché poi ci sono anche quei finti sindacati che quando ci sono i cortei dei Novax magari si vanno ad aggregare solamente poi per fare della cagnara, che non va bene, no? Ecco, permettimi. O magari firmano contratti in peius e a danno dei lavoratori, cosa ancora peggiore. Ecco, quindi parliamo dei sindacati seri. La nostra storia sindacale è molto forte. Negli anni passati ci sono ottenute cose veramente impensabili, impensabili per i lavoratori. È importante stare a fianco dei sindacati, è importante stare vicino ai sindacati, fare la tessera, andare, parlare, sentire, e poi magari appunto associarsi, fare associazione. Perché non è solo quando mi serve che poi ho il problema, devo fare l'avvertenza. È una cosa che serve sempre. Non è che voi lavorate su... cioè non è che tirate su la Claire, la Sara Cinesca, solo il giorno dell'avvertenza, giusto? No, assolutamente. Facciamo tutta una serie di accompagnamento dei lavoratori in tutti i loro bisogni. Poi, secondo me, bisogna anche uscire da questo schema della vertenzialità o della conflittualità. Noi puntiamo invece a una condivisione delle scelte e anche i lavoratori devono essere coinvolti nelle scelte delle loro aziende. Io credo che un lavoratore coinvolto che vive la propria azienda come una parte di sé sia un lavoratore sicuramente più motivato. E' questo lo schema che noi abbiamo in mente. Non è uno schema di tipo diverso. Non è il rompere la società, ma è il fare solidarietà all'interno della società che fa crescere un paese. Va bene. Con queste parole non avrei potuto dire di meglio, naturalmente, altrimenti non sarebbe il segretario provinciale della CIS di Pavia e Lodi. Ringrazio ancora una volta Elena Maga. Grazie a voi, grazie a tutti. Buonasera. Noi ci vediamo domani. Torna il nostro doc veterinario. A domani. Noi ci vediamo 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 domani. Grazie a tutti